Nell'ottobre 2012 fecero scalpore le immagini di un bambino prelevato con la forza davanti ad una scuola elementare di Cittadella, sottratto alla madre per essere trasferito in una casa famiglia e recuperare così il rapporto con il padre. Casi drammatici come questo sono sempre più frequenti, anche se pochi salgono alla ribalta delle cronache. Laura Di Ostia viene accusata dal consulente tecnico d'ufficio incaricato dal Tribunale dei Minori di essere una madre alienante, cioè di lanciare delle accuse infondate per vendicarsi dell'ex compagno manipolando il figlio di otto anni per scopi personali e per questo rischia di perdere la potestà genitoriale. Ovviamente l'accusa non è basata su prove oggettive, mio figlio è un bambino sereno, tranquillo, è un bambino che vive una vita normalissima, va a scuola ai suoi amici, fa lo sport, è bravissimo, anzi a scuola, è un bambino educato, a detta di tutti, delle sue insegnanti che sono state anche ascoltate da questa consulente. La CTU dà indicazione al giudice di fare questo, di portare via mio figlio, di farmi decadere dalla potestà genitoriale, di metterlo in una casa famiglia per tre mesi, scollegarlo completamente da me e successivamente il bambino sarebbe affidato in via super esclusiva al padre e sarebbe il padre quello demandato poi a decidere se e quando io potrei intanto ricominciare a sentire mio figlio al telefono. Tutto questo paradossalmente nasce dalla circostanza per la quale il bambino non vuole più vedere il padre. Sì, il bambino ha delle difficoltà relazionali con il padre che sono nate a seguito della loro diretta frequentazione. Tuttavia nel corso di questi anni nessuno ha voluto indagare la realtà del problema o meglio hanno sempre solo puntato il dito verso di me fino ad arrivare a questo tragico epilogo. Mio figlio ha anche delle problematiche di salute, quindi voglio dire non è possibile che un bambino venga strappato completamente dalla sua vita sulle teorizzazioni o sulle illazioni di un consulente. Il disegno di legge Pillon, come prevede il contratto di governo, intende introdurre il reato di alienazione genitoriale formalizzando un istituto che in pochi lo sanno prende spunto dalle tesi pseudoscientifiche dello psichiatra Richard Alan Gardner accusato di appoggiare o quantomeno giustificare i pedofili che abusano dei figli. Con il DDL Pillon non ci saranno proprio remore di nessun genere cioè automaticamente l'alienazione diventa un reato e quindi non ci sarà nessuna possibilità di confutare situazioni del genere. E in Italia continuamente, in ogni posto ci sono casi di questo tipo bambini strappati alle loro madri che non vedono le madri anche da un anno. L'ultimo caso, che forse è alzato alla cronaca, è il caso di Baressa in Sardegna in cui una bambina piccolissima di due anni e mezzo è stata prelevata dalla casa della sua mamma e portata dal padre.